Dal 9 al 12 di novembre al Palazzo dei Congressi di Roma prende il via la terza edizione di Dire Giovani, Dire Futuro, il Festival delle Giovani Idee. Un appuntamento che coinvolgerà 30.000 ragazzi tra i 12 e i 19 anni, provenienti da più di 300 scuole di tutta Italia. Un calendario fitto di spettacoli dal vivo, cortometraggi, workshop, esposizioni, tutte dedicate alla creatività dei giovani per valorizzare le loro idee e avvicinarle alle istituzioni. Per questo la provincia di Roma è presente attivamente alla Kermess. Il primo pomeriggio del festival parteciperà il presidente Nicola Zingaretti, impegnato a parlare con gli studenti su speranze e valori delle giovani generazioni.